buongiorno a tutti oggi felice giugno dormito fresco stanotte due coperte a vittipeno però so che giù fa caldo e quindi meglio il freddo ci si può sempre difendere dal caldo un po dura niente colazione e oggi lasciamo l'italia fuori dalle balle e oggi entro in germania non so dove dormerò stasera so che comunque faccio un pezzo di austria in statale e poi in autostrada che è gratuita in germania vediamo tanto domani sarà dove sarebbe al prossimo video ciao area di bp teno gratuita senza carico scarico approvata tranquillo note è veramente tranquilla bene lì è l'austria entriamo ciao italia speriamo di riuscire con queste connessioni del roaming che è in lato via a connetterci se non sfrutturò le connessioni wifi bene entrato in austria o di traffico non pensavo che la brain fosse così trafficata sono viaggiatori di tutti i tipi bicicletta piedi coi camper moto macchine corulotte è un traffico pazzesco non pensavo pensavo che tanti viaggiavano su autostrada invece fanno anche la statale come potete vedere la dietro quella è l'autostrada del brennero penso che sia il ponte europa quello che si paga in più oltre la vignetta autostradale un'opera grande perché non si riesce a vedere l'acqua le colonne sono belle alte vabbè continuiamo a dopo siamo entrati in austria che dire cambiata completamente tutto in austria è più tranquillo si vede che si passa in un paese diverso adesso sono questo piazzale faccio un po di pranzo vedete sto cucinando il risotto con gli aspargi e niente ammiro questa montagna sotto c'è la strada e niente pomeriggio siamo in germania è altro che dire a devo dire grazie alla politica di solito noi li diamo sempre contro perché ci spremono soldi cosa però in questa occasione bisogna ringraziarli perché ci hanno tolto il roaming dai nostri telefoni mi ricordo nel 2003 quando ha cominciato ad entrare in europa costava un euro al minuto solo chiamare non c'era internet cosa più di tanto e adesso si paga le nostre tariffe questa volta bisogna dare atto alla politica che hanno fatto un buon lavoro e alla fine ho fatto una tirata e sono arrivato qua a bad kissing adesso vi faccio vedere una parte del campeggio e domani farò la vista alla fiera e vedrete che spettacolo sta fiera adesso solo vedere il parcheggio è uno spettacolo solo quello che spettacolo di parcheggio impressionante non vedo l'ora domani di girarci dentro e vedere tutti i mezzi che ci sono dai nuovi ai vecchi costruiti da soli con gli allestitori fantastico vabbè io vi saluto e vi rimando il prossimo video ciao a tutti